Pietro ASMR Ciao a tutti ragazzi Come va? Spero tutto Benvenuti o bentornati in un mio nuovo Oggi sono qui anche vestito, devo dire, in maniera abbastanza elegante Per parlarvi di una nuova esperienza nella mia vita Di cui voglio rendere partecipi anche voi perché fate parte della mia vita Ed è un'esperienza che comporta l'avverarsi di un sogno E' il segno di avverarsi Spero sia l'inizio dell'avverarsi di un sogno che ho da tempo ormai Mi vedete? Al collo ho un laccetto particolare E' il laccetto di Mamma Rai In particolare questo è di Rai 1 Ma arriviamoci con calma Prima teniamo a ringraziare Gli abbonati del momento Perché ho fatto tutti i video un po' particolari Ad aprile e non sono riuscita a salutare gli abbonati Tra l'altro sono tantissimi, siete 97 Allora è bene che vada a salutare e ringraziare Laura L Enrico Appona Gianlu Tania Durina Marinella Maccagni Cagro 221 Arex 2904 1975 Jacopo Vismar Tecato Emanuele De Luca Dario 00 Pacosi Cristina Ratto Paolo Ivano Palmat Ulbappo Lala Missa Urittamento Finestrale Leonardo Nemez Alice Dario Dark Devil Luca 00 Superdici 19 Giulio Andrea Di Massimo Alecanna Gabriele Lagatta Antonio Marisca Ciccio Alessandro Rosinenza Epiccan21 Kai SMR Ambro Poz Elia Ergulano Simone Nedri Andre Drago 97 Campo Leonardo Policastri Francesco Mencolone Raffaele Boni Francesco Maggiore Dice Capri 14 Glebin Isufi Andrea Ranocchia Sebastiano Fabiani Donato Dicchio Samuele Bernini Martina Rapari Stefano Ragaia Tani 2.0 Paolo Cattaneo Metric Michele Fumarulo 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 Michele Fumarulo Matti Michael Spattery Gabriele Matteo Grimm Minka Gisella Muia Giuseppe Puma Matteo Simone Sorgenti Francesco Perdonno Chi siete? Rogelli 22 Gabriele Castelfi Edmonti Rene Francesco Monta Michele Grauso Eddie 26 Anondigri Virgine Casani Pietro Esposito Segnato Andrea Cattivi Di Contro Alessia Ivan Grinco Michele Conte Valentina SMR Nicolo Gesario Luggio 17 Costavano Troppo Fans Like Capobianco Leo Pie Politis Gamer Roberto Iannacci Ale 3MMM Come Macchina Andrea Cagliari Andrea LX Re Marta Raccanelli E Todd Todd CXY Y Y Grazie di cuore Per essere abbonati Al canale Molti sono stati anche abbonati Regalo Ho vinto l'abbonamento Grazie ad Alex E Cagorot121 E quindi Vi ringrazio a tutti Per questo sostegno Se anche voi volesse Andranno a far parte Della famiglia Degli abbonati Trovate il link Nella descrizione A partire da 99 centesimi Al mese Avete accesso Tantissimi vantaggi Come Ad essere estratti Con più facilità Per partecipare Ad affari SMR In onda ogni mercoledì E domenica A partire dalle 22 Ed anche avere l'accesso In anteprima Ai video della settimana Tanta roba devo dire Bene Ora come sempre Vi ricordo di lasciare Un super mi piace Iscrivervi al canale Se non aveste ancora fatto Un mi raccomando Super importante Continuerò sempre A ringraziarvi Per questo nuovo Obiettivo Di 40.000 Ora direi Di puntare ai 50.000 E vi ricordo anche Di seguirmi su Instagram Per non perdervi Il suo aggiornamento Lì In descrizione Allora 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 Torniamo a noi Qui ho un po' di gadget Però Ci tengo a lasciarvi Anche Un bel po' di Di foto e video Della Delle esperienze Che sto per Per raccontarvi Allora Lunedì Sembra Fosse Un lunedì Aspettate Ho quel calendario Così vi posso dire Il tutto meglio Allora Allora Era lunedì 25 marzo 2024 Sono andato Sono andato A fare Dei casting Dei casting Per cui Ero stato chiamato Con un messaggio Qualche giorno Prima E io Partiamo dagli inizi Mi sono iscritto Al portale Rai Per figuranti Ad ottobre Ok Ottobre 2023 Da quando ho messo piede A Roma Perché Io dovete sapere Che è come sogno Nel cassetto Ho quello Di diventare Regista Di comunque Lavorare nel mondo Del cinema Ma Più di tutti Ho quello Di Lavorare In Rai Potrei definire Questa cosa Come una sorta Di Feticismo Forse Ma io Da quando sono piccolo E ve lo giuro Ho un'attrazione Ma forte Nei confronti Della Rai Non lo so Perchè Ve lo giuro Non lo so Perchè Sarà Perchè la Rai E' sempre venuta Ogni anno Ad assisi Per il concerto Con il cuore Nel nome di Francesco Che molto spesso Vi ho raccontato E quindi Da quando sono piccolo Che vado a quel concerto Che presenta Carlo Conti E che è in diretta Su Rai 1 E vedere Quei cani Della Rai Gli operatori Le telecamere L'organizzazione Da parte anche Della regia E di tutto Diciamo che Complesso Per fare la diretta Mi ha sempre Affascinato E mi ha avvicinato Sempre più a questo mondo Che sia del cinema Che sia della televisione Che sia però Il mondo del catturare L'immagine Ok? Il mondo del catturare L'immagine Allora sarà forse per quello Sarà perché Sanremo Ho sempre amato E ho guardato sempre Sanremo Molto con un occhio tecnico Quest'anno Più che mai Nell'immaginarmi Come sarebbe poter essere La coreografia di immagine La coreografia video Di ogni brano Quindi ascoltando un brano Anche io mi immagino Le varie inquadrature Che si possano fare Per una diretta Io Ho questa passione Immane Non per Medeset Ma per la Rai Ce l'ho per la Rai Ragazzi Ce l'ho per la Rai Infatti quello E tutti gli applausi Le dirette E quant'altro Io amo la Rai Amo la Rai E mi sono iscritto subito al portale Non è molto semplice Cioè non è semplice Che ti chiami no? È successo È successo a marzo Dopo mesi e mesi Che mi ero iscritto E mi hanno chiamato Per questo casting Quindi non è che mi hanno chiamato Perché mi volevano A tutti effetti Era un casting Ok? Era un casting Quindi non era detto Che io sarei voluto essere preso Per entrare a fare parte di questo progetto Il casting era per Diventare giurati Della giuria dei giovani Nella nuova edizione Dei migliori anni Conduttata da Carlo Conti E direttamente Prima serata Il sabato sera A partire dal 6 aprile Ok? E che è la puntata Che vi racconterò oggi Ma magari se succederà Altro Vi farò altri video Perché ci sono ancora 3-4 serate Quindi può succedere sempre tutto Però andato Voglio portarvi questa Che fresca fresca E allora Sono andato Nella sede È Rani Studi Fabrizio Frizzi Che È Sono Per chi è di Roma Per farvi capire un po' A Termine Di Al capolino della linea B Iogno A Iogno sono Poi devi fare un chilometro e otto a piedi Per il territorio di Iogno Sei arrivato ai TR Studios Si chiamano C'è un sogno Entrare Negli studi Della RAI Solo quello per me Era il sogno Averato Non mi interessava Per forza passare il casting Ma mi interessava Entrare ufficialmente In uno studio RAI Allora cosa è successo? Visto Sono arrivata agli studio Visto che c'era tantissima gente fuori Quindi eravamo in molti ad aver preso parla da questo casting E il mio era il secondo gruppo Perché ne hanno fatto una alle 14 E una alle 17 Allora alle 17 Era il mio turno Sono arrivato tutto studato Perché ci ho messo da qui un'ora e mezzo a arrivare L'autobus non passava una volta a Iogno Quindi ho fatto tutto a piedi il trittone Era anche bello Era caldo Quindi ho studato E sono arrivata alle 17.00 E poi siamo entrati alle 17.35 Quindi tutta quella furia Quella fuga Per nulla Vabbè Dettagli Voglio prendere intanto Guardate Il biglietto Questo è quel biglietto che ci hanno dato I migliori anni RAI Tra l'altro la fila B Posto 20 Che ho aggiornato il mio compleanno Questa cosa È strepitosa Mi accompagna con questo tapping sul biglietto E E E E allora Ecco 17.35 Siamo entrati E ci hanno fatto i badge Ci hanno fatto i badge E RAI Ingresso Anche per il badge Altro sogno Anzi Possiamo il biglietto E prendiamo il badge Allora Ce ne ho due Te ne ho due Te ne ho due Te ne ho due Te ne ho due Lo studio dismesso Avevamo Gli autori Le reclutatrici Dei casting In teoria c'era anche Penso il regista C'era un fonico E c'era un operatore Perché c'era una fotocamera Al centro Un tavolo Con tutti gli autori E Comprovano fatti i casting E due sedie Una luce E il microfono Ci hanno sparsi un po' Per lo studio C'era un lato dei fogli Dato per compilare Per levare il liberatore Per chiederci alcune informazioni E tra le informazioni richieste C'era scritto C'era C'erano anche Tra le tante Quelle riguardanti i social E quindi volevano sapere Anche se eravamo attivi O meno nei social E penso che Il canale E voi Siete stati molto utili Per essere Presi In questa esperienza Quindi vi ringrazio E E quindi ecco C'era anche questa richiesta E ho scritto tutto Perfettamente Poi tra le tante cose Tipo guardi la televisione Cosa guardi? Ho scritto Vivo per affari tuoi Ho scritto E per Sanremo E va bene Allora che hanno fatto? Ci hanno chiamato A due a due Per parlare Con gli autori Che ci facciano altre domande E nel frattempo E avevamo registrati Alla macchina da presa E avevamo un microfono Su cui parlare A due a due Perché c'erano due posti Uno Che veniva intervistato E l'altro Aspettava il prossimo turno Poi andavamo due a due Ma era solo uno che parlava E poi ci si scambiava di continuo Finché non abbiamo finito tutti i 70 E' stato molto bello come casting Io ho parlato delle varie esperienze che ho fatto Ho spiegato Delle mie passioni E del mio canale Ho spiegato la ASMR Perché là dentro è l'unico che faceva ASMR E quindi vabbè E tutti molto attenti Ma particolare Guardate un po' che Queste cose che si inventano i giovani E una delle Signore di casting che conosceva anche il genere E' molto molto simpatica Assumiava molto a Donatella Versace Tra l'altro E niente Poi oggi hanno fatto la classica Ti faremo risapere Anzi a me Una frase che mi è rimasta impressa Uno dei autori mi ha detto Guarda a te quasi quasi ti acquistiamo Io stavo svenendo Prendetemi Sono vostro voi udili E va bene Voi sono andato via E ho aspettato no Con il desiderio di essere preso Eravamo 70 Al turno del 17 Un'altra 70 Era al turno delle 14 Più o meno Quindi 140 E ad essere presi saremmo stati E saremmo dovuti essere Una cinquantina Trentina 50 E Sono tornata a casa Vabbè E Il 29 Arriva il messaggio Ora ai migliori anni Dopo i casting Sei stato preso Io E' tutto felice E' tutto emozionato Bellissimo Bellissimo Ho urlato Ho gli amici a pranzo Ho urlato Poi per l'altro la sera prima Ho raggiunto i 40.000 iscritti Ed ero stato preso l'Erasmus Il giorno dopo Mi dicono Sono stato preso Ho detto mamma mia Tutte queste cose insieme Aiuto Bellissima Bellissima notizia E Adesso togliamo queste Prendiamo Quello effettivo Dei migliori anni E La Rai ha inviato il contratto Bellissimo Il contratto Rai E Che sono 250 euro Per cinque serate Lorti Vanno messi al netto Vabbè Non è una cosa che si fa Per soldi Però Si fa per esperienza Curricolare Ed anche per vedere un po' Come funziona Questo mondo Rai Che io amo tanto E per fare soprattutto Le conoscenze Importanti Quindi Sono dentro la Rai Per un mese Se io lavoro per Rai È ufficiale Quindi questa cosa Mi emoziona Alquanto Ho un contratto Con la Rai Quindi È bellissimo In qualità di collaboratore Rai E' alzato Di firmare Quei contratti Proprio stupendo Sono arrivate tante email Nel frattempo Email Rai Qua vi lascio tutto Un po' di foto Email Rai Firmate Rai Che bello E Praticamente Ci veniva detto Un po' Il messaggio dell'autore Di come ci saremmo dovuti Comportare E C'è che avremmo dovuto fare Quindi Semplicemente Noi siamo una giuria di giovani Quindi rappresentiamo la parte giovane Nei migliori anni Che appunto Rivive No Gli anni 50 Gli anni 2000 Tutti i brand musicali Che hanno fatto la storia Con tanti ospiti E E dovevamo mandare Un numero privato Che ci hanno dato poi Sabato sera stesso Dei messaggi Andando a commentare Le varie esibizioni Una in modo divertente Poi quelli più divertenti Venevano trasmessi Sullo schermo In diretta Carlo Conti Li leggeva E quelli che più gli piacevano Chiamava il ragazzo Che aveva scritti Per commentare Insomma Il messaggio scritto Ci hanno detto di coprire Il telefono Mi raccomando I marchi Infatti l'ho coperto Completamente Con scotch Non si doveva Assolutamente Vedere La mela Né tanto viene La marca di Casitify Che è la marca Della cover Tutto per bene Assolutamente E E va bene Questo è quello che ci hanno detto Poi sabato Alle diciotto L'appuntamento alle diciotto E il programma iniziava Alle ventune e trenta ragazzi Quindi pensate quanto preppi Su quanto antici Potevamo stare là E ci siamo fissi Con quelli che erano E erano stati presi Ho rincontrato molti Del mio casting Con cui avevo fatto amicizie Quindi molto contento di questo E ho stretto più amicizie Sicuramente di quando c'è stato il casting Perché siamo stati molto tempo assieme E Niente Ci abbiamo fatto una riunione Con gli autori che ci hanno spiegato Un po' tutto quanto Quello che abbiamo potuto fare Appunto con i telefoni Di dover ballare Dover essere reattivi Giovani Dobbiamo vivere al massimo Questo programma E E poi ci hanno dato Questa meraviglia Che è E Raiuno 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 E questo è il mio patch Che se vuole mettere fuori Sono contento Questo è il Il mio patch Ufficiale Per I migliori anni Signor Nel gatti Vedrò Che se vuole di più Quindi questo è il mio bellissimo patch Della Rai Che dovrò portare per essere riconosciuto E ce l'hanno dato quindi insieme ai Biglietti appunto Numero 23 Bellissimo Era un posto laterale Fantastico Sono stati tantissimi gli ospiti Tra Fatti Bravo Francesco Cappani Filma Fantastico Che cantava Patatina Patatina Piccolina Bellina Patatina 94 anni ragazzi Filma De Angelis Tantissimi tantissimi ospiti Specifico Patti Bravo Perché tra i tanti messaggi Che ho scritto A Patti Ho scritto appunto Che mi aveva lanciato Uno sguardo Che mi aveva un po' scosso E tra i messaggi Che poi Carlo ha iniziato a leggere C'è stato proprio questo messaggio E allora si è messa a ridere Ha detto ma chi l'ha scritto? E io Io Allora è venuto da me Avevo un gelato Un microfono Lì che ci avevano preparato Allora ho preso Mi sono alzato Ho fatto buonasera Buonasera a tutti Adesso vi lascio tutto il video Buonasera Buonasera a tutti E poi Carlo ha fatto il commento Sui miei capelli E io ho specificato Che anche mio Perché Carlo ha detto Ce li aveva anche lui Quando era piccolo Quei capelli E allora io ho specificato Anche mio padre li aveva così E adesso è pelato E Carlo si è messa a rete L'ha detto Anche mio padre è pelato E poi mi ha fatto Quindi infatti ti ha lasciato Uno sguardo Eh sì un sguardo E mi sono È stato amore a prima vista E poi mi ha detto Se avevo ancora il canino Attaccato Perché prima Carlo Verdone Aveva fatto tutto Un monolo Un discorso Sul suo primo bacio Che aveva dato Di una ragazza Che con la lingua Le aveva staccato il canino E io ho detto No no c'è ancora C'è il canino Che mi è stato bellissimo Sì perché tra gli ospiti C'era anche Carlo Verdone E anche tanti Altri ospiti Americani Fantastici Che avevo una reattività E ho scoperto addirittura È Ehm Un cantante Che era quello con il basso E le due cantanti Di colore fantastico Una voce trepitosa Che lui praticamente Ha prodotto un ponte Di canzoni famose Degli anni 80-90 Che conosco molto bene Quindi Fantastico Poi li avevo vicinissimi Li avevo perché ero proprio Vicino Vicino laterale in seconda fila Vicino Tutto bellissimo E ancora quella via dei ballerini È stata un'esperienza strepitosa Poi con Carlo Ci ho fatto anche un mini video Molto molto divertente Di Perché Anche un altro mio sogno È stato sempre quello Di poter dire con il cuore Nel nome di Francesco Assima Carlo E ce l'ho fatta dirlo E con il cuore appunto Il programma con cui Mi sono avvicinato alla Rai Anche lui supera la mano Gentilissimo Carissimo Bellissimo Ma poi tutti i applausi Potremmo fare Durante le pubblicità Che ci intratteneva Scherzava Schiettava Poi sono stato un po' di in top Durante la diretta Che c'era un microfono Che non era presente Poi Carlo entra A cercare di fare Di sistemare un po' la situazione Però Vedere così un programma Da così vicino E poi vedere la televisione È qualcosa di completamente differente Chi studi ragazzi Chi studi dei migliori anni Studio 6 Mi sembra Quando ho letto Che è anche uno dei più storici Della Rai Dove si facevano i variità Più famosi della Rai Bellissimo Molto grande Molto grande Con lo studio E sono rimasto piacevolmente colpito Quindi Super super contento anche Dello studio Poltrone comode Poltrone comode Ho fatto l'errore di lasciare Lo zaino Nel guardaroba Perché c'è stata qua Una fila di turno Sprenenta Quindi Non lascio Anzi non porto lo zaino Perché c'è un ristorante dentro Quindi Andrò al ristorante E E niente Quindi questa è stata l'esperienza Rai Autori molto alla mano Ci ho chiacchierato Cerco un po' di Stringere contatti E E E' bellissimo il mondo Rai E' bellissimo Vedere gli operatori con la Staticam Che correvano anche Per fare le riprese da vicino ai cantanti E tutto Troppo Troppo bello I coppi Il collegamento con il TG1 Tutto bellissimo E E quindi questo peggio adesso è nostro Fino al 30 aprile Perché avremo ogni sabato una serata E Spero che ci siano i ricchi e poveri In una delle prossime Perché io li adoro E sarebbe bellissimo I ricchi e poveri Qui vicino E quindi questa è E' stata la mia Prima puntata in Rai La mia prima vera esperienza in Rai Da Lavoratore Rai Perché ho un contratto con la Rai Che bello E speriamo un giorno possa essere un contratto A vita Con questa Casa Televisiva italiana Televisiva italiana che Amo tanto Sapete? Non so perché l'amo Ma l'amo Quando siamo arrivati ci hanno messo nella stanza dei VIP E non si erano accorti Infatti hanno detto O ti abbiamo sbagliato stanza Via 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 E ci hanno fatto firmare liberatorie su liberatorie Oltre ad aver firmato 30 pagine di contratto Ci hanno fatto firmare altri liberatorie Una tra le quali Non dovevamo Fare dichiarazioni politiche Riguardanti appunto Le votazioni europee Del 6-9 giugno 24 Vabbè Puro Grazia portami via Sembra una roba quantità di roba Assurda Però per il resto Tutto bello Bellissimi Anche i vecchietti che facevano Chi è che stava al pubblico Tutti i vecchietti Era un bus Venuto dalle Marche Erano 50 anni di persone Strepitosi C'era una vecchietta che parlava in continuazione Fantastico E va bene Questa è stata la mia esperienza Vediamo un po' se potrò raccontarvi delle altre Però Bello 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 La diretta La diretta E io In diretta È stato meraviglioso Vedersi sorreggono Tutti a scrivervi messaggi Oh eh Fantastico Bellissimo Bene Viva la Rai Viva la Rai Allora ragazzi Io vi do appuntamento a sabato prossimo Sabato 13 aprile Per Vedervi in diretta Su Rai 1 Mi raccomando non mancate Vediamo un po' che posso Mi assegneranno Perché Questo sabato Ero sul posto Perfetto Mi inquadravano sempre E E allora ragazzi Si io Ora Con questo bel racconto Sulla Rai Non posso far altro che curarvi una Rucullo Joyoso E se lo E se lo No 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 E No Grazie a tutti.